Il murales divide, c'è chi diciamo lo abbatterebbe sicuramente non con leggerezza però insomma per una ragione giusta si può anche abbattere, c'è chi invece lo vorrebbe insomma del tutto salvare. Su una cosa però gli aretini sono tutti d'accordo, in centro non ci sono abbastanza parcheggi, ecco questo è il messaggio che esce diciamo dalle opinioni degli aretini che noi abbiamo raccolto. Sentiamo. Non saprei cosa dire perché prima era brutto 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 perché se non ci mettevano le mani a ristrutturare cadeva a pezzi, così copre un po' però non è che sia tanto bello. Quindi si può abbattere? Questa qui si potrebbe migliorare penso, quella lì con quei colori lì c'è a chi piace e a chi purtroppo no. I posti auto in centro secondo lei ce ne è abbastanza o no? Allora i posti auto ce ne sono abbastanza a pagamento per i residenti, pochissimi e io sono uno dei residenti quindi per avere un posteggio devo fare abbonamento dentro le mura. Il sindaco che l'ascolta in trasmissione quindi gli può dire questa cosa? No, è l'unica cosa che hanno fatto bene, prima costavano il doppio di ora, è una cosa buona che ho trovato ultimamente e ho trovato lo sconto del 50% è una cosa buona, almeno quello per i residenti insomma. Non è che sia tanto, sei mesi 60 euro, prima ne spendevo il doppio quindi. Secondo te ci sono abbastanza parcheggi ad Arezzo se togliamo ad esempio anche la Cadorna? No, assolutamente, assolutamente, a parte l'Eden, poi ci può essere questo qui delle poste ma il resto non ce n'è altri. Baldaccio può servire allo scopo? Sì, anche se tanti aritini non la metteranno mai a Baldaccio perché è troppo distante dal centro penso. Le sue di abitudine? Eh, penso di sì. Senta, io sono un'artista, diciamo, mi piace dipingere, però questa parte della città che è aperta la vedo molto bene, nel senso vedere quel parcheggio là che è aperto verso questa, e capisco che gli artisti che l'hanno fatto va riconosciuto il discorso, sì mi dispiace, mi dispiace che venga abolito, però è una via di mezzo. Insomma, sarebbe contenta sia in un caso che nell'altro. Sì, è sempre pensato, sì, perché quando vado a fare il parcheggio là, che si è aperta questa zona qui, mi sembra che acquisti anche a livello, però... I parcheggi in centro secondo lei ce ne sono abbastanza o si potrebbe fare di meglio? Ce n'è qualcuno che è sottovalutato, tipo il Baldaccio, che non ci si va mai, perché non capisco perché io quando vengo, o vengo qui a fare il parcheggio, non glielo so dire. Il Baldaccio potrebbe essere una buona solo. L'Eden, il parcheggio Eden che è sottovalutato, ce ne sono abbastanza, però noi aretini siamo sempre al solito, sì, abitudinari, penso. No, io non sono d'accordo, perché secondo me è un'esposizione artistica molto bella questa, e quindi non credo che debba essere abbattuta. Ci possono essere altre soluzioni per i parcheggi, secondo lei? Soluzioni per i parcheggi nel centro storico non credo, perché, o a meno che non abbattano, diciamo, edifici, ma per i parcheggi non penso. Quindi, insomma, si butta via, tra virgolette, un'opera d'arte per nulla, secondo lei? Sì. Una delle poche cose artistiche moderne di Cionale di Arezzo penso che valga la pena conservarla, però la maggioranza vince e che se ci sono delle regole da rispettare, le rispettiamo. Questione dei parcheggi, ce ne sono pochi, ce ne sono tanti, sono giusti? Non ce ne sono, punto. Soprattutto non ce ne sono gratis. Trovo profondamente ingiusto che un cittadino che ricorre ai suoi servizi demografici debba pagare il parcheggio. Profondamente ingiusto come cittadino. È bello. Era una cosa nuova, però pare che sia utile per andare al parcheggio della Cadorna. Io penso si potrebbe fare una soluzione diversa. un archetto o due archetti per consentire l'accesso e lasciare questo che, bene o male, è una botta di novità in una città un po' tradizionale. Io non sono, sono salentino, però sono da tanti anni qui e la vedo un pochettino ferma su certe cose. Quindi io lo salverei consentendo un accesso nella piazzetta al parcheggio. E senta, ci sono abbastanza parcheggi secondo lei in città? Un parcheggio è abbastanza. I bisaccioni chiaramente è abbastanza lontano, quando è stato creato sembrava fosse la soluzione per il turismo eccetera. Però sappiamo che poi negli anni, io sto da quella parte a San Laurentino e ho visto che non è stato proprio così, diciamo, molto sottutilizzato chiaramente. Cosa si può inventare? Una navetta quell'anno, ho sentito parlare, le biciclette, ma non vedo tanto utilizzo ancora. Cosa si può inventare? Proprio non lo so. I turisti sono anziani, quelli che vengono su Arezzo parecchi. La scala mobile è stata una gran cosa, anche io la utilizzo, perché per andare sul comune prima io non ce la facevo, scendeva un motorino e basta. Quindi bene per l'utilizzo da parte alta della città con le scale mobili. Non lo so se si può fare scale mobili sotterranei e da bisaccioni qui, però costerebbe un botto, come si suol dire. E non so se si può realizzare tra l'altro. Però la vedo dura con il parcheggio a bisaccioni.